Stai per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata alle biografie di scrittori e scrittrici da tutto il mondo. Ti interessano le fonti e curiosità aggiuntive? Leggi l'infobox, è sotto il video, è gratis e non morde. Se ami la letteratura, sei nel posto giusto. Se la vuoi raccontata in modo molto serio, iscriviti all'università. Buona visione! L'opera a cui ha dedicato buona parte della sua vita è considerata il romanzo più lungo del mondo. Più di 9 milioni di caratteri, spazi inclusi. Si stima che per leggerlo siano necessarie dalle 127 alle 133 ore, 4 mesi e mezzo all'incirca, calcolando almeno un'ora di lettura al giorno. Ma qual è stata la vita dell'autore di una simile opera? Io mi chiamo Martina e oggi proverò a raccontarvi una delle biografie più singolari della storia della letteratura, quella di Marcel Proust. Mia cara mammina, non avendoti scritto ieri, riprendo da dove ero rimasto. Allora, l'altro ieri sera i miei fastidi si sono temporaneamente attenuati. Ne ho approfittato per mettermi a letto intorno alle 3 del mattino, o addirittura prima, per non prendere il trionale. Ho dormito a sprazzi, ma tutto sommato bene, a parte l'asma che non mi dà tregua. E, con mia grande sorpresa, al risveglio non ho provato la mia solita sensazione di scomporto. Così scrive Marcel Proust nel 1902, in agosto, a sua madre, Jean Weil, alla quale era legato da un rapporto intenso, intensissimo, come possiamo dedurre da quel mammina. E, considerando che all'epoca Marcel aveva 31 anni, non 5, smettiamola di dire che soltanto gli italiani sono mammoni. La mamma di Marcel, Jean Weil, appunto, proveniva da una famiglia ebrea. Il bisnonno di Marcel, pensate, era il circoncisore ufficiale della comunità ebraica di Parigi. Ma, in realtà, questa comunità ebraica in Francia, all'epoca, non era così tanto numerosa. Dati alla mano, vi dico, nel 1872 erano soltanto 86.000 gli ebrei presenti su una popolazione di 39 milioni di abitanti. Del tutto diversa la situazione, per esempio, in Inghilterra, dove erano più del doppio, o addirittura in Russia, dove arrivavano persino a 5 milioni. Jean Weil, la mamma di Marcel, era stata educata in casa e sapeva suonare il pianoforte, sapeva parlare il tedesco e l'inglese, leggeva con grande interesse e voracità. Infatti, aveva la tendenza di infarcire le proprie lettere con tantissime citazioni, anche colte. Ma tutte queste doti passano in secondo piano se osserviamo questa donna attraverso il filtro del figlio, il quale aveva più di una cosa da rimproverarle. Una, per esempio, è famosa, celebre, un rimprovero celeberrimo che Marcel fece a sua madre è stato traslato all'interno della sua grande opera, quella di cui vi dicevo nell'introduzione, ossia Alla ricerca del tempo perduto. E nel primo volume, che si chiama Dalla parte di Swan, Marcel riporta un episodio diventato appunto quasi aneddotico, quello del bacio della buonanotte. Ora, si racconta appunto che Marcel sia andato a letto una sera e che la madre, per intrattenere degli ospiti che si presentavano quella sera in casa, che erano in casa, non sia andata a dargli questo famigerato bacio della buonanotte. E il bambino abbia percepito questa mancanza come un profondo tradimento, che ha segnato quasi una rottura nel rapporto tra madre e figlio. In realtà, se osserviamo i dati, così come sono questi episodi di mancanza nella vita di Marcel, si sono ripetuti probabilmente più di una volta, così come riportano anche alcuni biografi. Ma questa mancanza, questo tradimento profondo delle aspettative infantili, non è l'unica colpa che può essere attribuita, secondo alcune persone, a Jean Vail. Per esempio, c'è tutta una storia che riguarda la nascita di Marcel Proust, avvenuta il 10 luglio del 1871 a Oteie. La famiglia, la famiglia Proust, abitava normalmente a Parigi, nel boulevard Rosemann, solo che per motivi di ordine e per motivi di ricerca di serenità, a causa dei moti insurrezionali che proprio in quel periodo stavano colpendo la città e quindi stavano facendo mancare tanta tranquillità. Le persone avevano deciso di spostarsi ed erano andati in questa località più periferica. Tuttavia, la gravidanza di Jean Vail andava avanti in un clima che non era proprio disteso, era anche abbastanza turbolento e c'è stato persino qualcuno che ha pensato di attribuire a Jean Vail e a questa tormentata gestazione la responsabilità delle numerose problematiche di salute che hanno attanagliato la vita di Marcel dall'inizio praticamente fino alla fine. Ma se noi vogliamo essere un pochino più obiettivi dovremmo guardare la famiglia nella sua complessità e quindi dare un occhio anche al padre perché c'era anche un padre ovviamente e non un padre da poco, ora vedrete un padre importante, un padre significativo. Il padre di Marcel si chiamava Adrien, Adrien Proust, non era ebreo, il matrimonio dei genitori era un matrimonio misto, aveva 25 anni in più della moglie ed era un rinomato medico. Era uno di quegli uomini che avevano saputo dimostrare una certa capacità di affermazione perché proveniva da una famiglia di droghieri eppure era riuscito a affermarsi appunto e a realizzare una brillante carriera come medico. Era un epidemiologo di fama internazionale, insegnava anche all'università, era titolare della cattedra di igiene e non solo, aveva investito buona parte della sua vita adulta nello studio e soprattutto nella pratica di sensibilizzazione al problema del contenimento del colera. Pensate un po', vi cito questa cosa che è una curiosità che ho trovato e mi sembra interessantissima da condividere, pensate che per scrivere La Peste, Albert Camus, famosissimo autore apprezzato da molti, ha scritto tante cose interessantissime, fra cui appunto La Peste, si è ispirato proprio a un testo di Adrien Proust. A dirla tutta dovremmo osservare anche il fratello di Marcel. Il fratello di Marcel si chiamava Robert e anche lui, anche se poco più giovane di Marcel, ha avuto un ruolo determinante nella sua vita e ha avuto anche una sua affermazione sociale perché è stato come il padre un medico, un medico brillante e non solo un medico brillante, cioè un medico di spicco. Pensate che è stato direttore di uno dei primi servizi parigini di trattamento del cancro tramite radioterapia. C'è un aneddoto in particolare che riguarda il rapporto fra questi due fratelli e che io trovo divertentissimo perché ci fa capire un po' la personalità di Marcel e fino a che punto arrivava il livello di problematicizzazione della sua situazione personale. Ve la dico subito questa cosa. Allora, Marcel soffriva di vari mali, poi dopo nello specifico vedremo di cosa, ma uno fra questi probabilmente in più invalidante era una forma di asma cronica. Allora, la prima volta era stato colpito da questa forma di asma mentre stava facendo una passeggiata ancora bambino, all'età di 9 anni, si trovava al Bois de Boulogne e viene colpito da questa asma e da allora il problema non lo avrebbe più lasciato in pace. Nel 1919 Marcel comprende che non può più stare nell'appartamento di Boulevard Haussmann perché la prossimità con piante e fiori peggiorava i suoi problemi respiratori. Allora si rivolge al fratello con cui probabilmente aveva un rapporto comunque piacevole e gli chiede aiuto, gli chiede di trovargli un alloggio e Robert si dà da fare e gli trova un nuovo appartamento dove stare in Rue Amélin. Allora, la prima notte in cui Marcel si trasferisce in questo alloggio si rivela un incubo perché sulla carta da parati pare che fossero riportate delle rose, c'erano riprodotte delle rose e la suggestione causata dalla visione dell'infiorescenza parietale ha causato al nostro Marcel una violentissima crisi d'asma. Che fosse suggestionabile insomma, non è di certo un dubbio. Ciononostante, lui prova a mettersi in gioco con gli affari della vita, con le cose della vita e si presenta come volontario nel 76esimo reggimento di fanteria a Auclea. Qui riesce a entrare anche in un clima abbastanza, diciamo, un po' da tappeto rosso perché il padre, l'avete capito ormai, Adrien, è un pezzo grosso, l'abbiamo detto, è uno che di fatto suo lo sa e lavorava fra le altre cose anche come ispettore generale dei servizi sanitari, perciò Marcel viene accolto a braccia aperte, insomma gli vengono riservati una serie di privilegi che ora vi dico. Lui vive questa esperienza come una specie di vacanza nell'esperienza della piena virilità e gli piace no tutta questa messa in scena paratesca in cui maneggia le armi, poi monta a cavallo, poi gioca a fare il soldato insomma, però riesce sempre miracolosamente ad ottenere dei permessi speciali per cui in pratica ogni settimana se ne va, lascia il reggimento, torna a Parigi, indossa la sua bella divisa e va a fare sfoggio di una sua bella versione, versione soldatesca, al ricevimento del tè di Madame de Calavé. Poi ritorna di nuovo lì, ma insomma le cose prendono una piega del resto quasi sospettabile perché al di là di tutta questa bella pantomima, Marcel non aveva delle grandi capacità in ambito militare, infatti alla fine della storia, alla fine del corso di volontario risulta 63esimo su 64 e quindi la sua esperienza termina lì, ritorna nuovamente alla vita che conosceva e ai suoi mali, di cui un po' tutti dubitavano, lui era certo di soffrire di tante cose, indubbiamente i problemi c'erano, però ad esempio il padre Drian era un po' scettico rispetto alla comprovata certezza clinica dell'origine dei problemi di Marcel. Anche Robert dubitava di tanto in tanto, la madre poi era un po' apprensiva, mi raccomandava sempre di tenere in ordine le sue cose, le lettere raccontano delle cose veramente notevoli in questo senso e io mi domando, io mi interrogo rispetto a questa cosa, mi chiedo ma come deve essere stato Vibere a casa Proust essendo Marcel? Guardate il contesto un po', Adrienne, medico rinomato, affermato, pluri, acclamato, richiesto dappertutto, Robert che fa il suo, ottiene tanti riconoscimenti, gratificazioni e dall'altra parte c'è Marcel, questa un po' pecora nera mi sembra della famiglia quasi, questo ragazzo amante delle lettere, un po' malaticcio che mentre il fratello studia anatomia, patologia e tutte quelle cose che possono aiutare gli altri invece si sofferma a leggere Tiofil Gautier e Capitan Fracassa, un appassionato delle lettere che sembra quasi una nota stonata all'interno di questo ambiente familiare. Mi fa pensare un po' a quelle situazioni in cui ci sono certe famiglie che hanno una posizione, anche una certa tradizione in termini professionali, tramandata di generazione in generazione e poi arriva quel figlio, quella figlia che ha delle aspirazioni completamente diverse e fa una fatica madornale a riuscire ad affermare quello che è veramente, cioè fa una fatica tremenda, a volte succede anche oggi, non sono delle cose troppo strane, quando un figlio o una figlia desidera fare un percorso che è completamente lontano rispetto alle aspettative dei genitori e lì succedono delle situazioni un po' scomode, un po' fastidiose, perché in realtà quello che ognuno di noi deve fare è realizzare quello che è, non soddisfare le aspettative degli altri. Dovete sapere che ad un certo punto Marcel si mette a studiare, si iscrive alla facoltà di legge e a quella di scienze politiche, segue anche dei corsi di filosofia e questo a noi interessa, ci interessa molto perché dovete sapere che in quel periodo Marcel Proust frequenta le lezioni di filosofia di un tizio che si chiamava Henri Berson, che io amo in maniera particolare, sì qua mi si scioglie un po' il cuoricino perché Henri Berson è il mio filosofo preferito, è inutile nascondere la verità, è un filosofo non molto conosciuto, io l'ho scoperto al liceo perché la mia professoressa ce lo fece studiare e mi si è aperto un mondo, l'ho trovato meraviglioso, lui è il filosofo del tempo, cioè Berson è quel filosofo che ha individuato la differenza fra due tipologie di tempo nelle quali siamo del tutto immersi, la prima è quella tipologia che si chiama il tempo della scienza ed è il tempo numerabile, il tempo che si può contare, il tempo che ci permette di dire fra dieci minuti devo scolare la pasta perché se no scuoce, è quel tipo di tempo fondamentale ed è assolutamente inequivocabile per tutti, è oggettivo, è il tempo che ci permette di non perdere un treno o di non arrivare tardi ad un colloquio di lavoro, ma poi c'è un altro tempo che è il tempo della coscienza ed è un tempo interno, è un tempo mentale, è un tempo fluido, è un tempo nel quale si muove tutta la nostra vita costantemente oscillante tra un passato che ci viene restituito dalla memoria e un futuro che ci viene anticipato grazie alla nostra capacità straordinaria, il potere degli esseri umani che è l'immaginazione. Marcel segue questi corsi e anche se ci sono pareri molto discordanti rispetto all'influenza che Henri Bergson ebbe sulla produzione di Marcel, un'influenza o comunque una suggestione a mio avviso gli è stata data. Fra l'altro, parentesi, due, poi si sono anche imparentati perché Henri Bergson ha sposato una parente di Marcel, ma pare che non si siano mai filati più di tanto o comunque quando capitava di incontrarsi non c'era questa grande sintonia, questo grande feeling, fra i due non c'era. Marcel si laurea in legge, frequenta uno studio di avvocato, ma gli bastano 15 giorni per capire che la giurisprudenza non è proprio il suo destino. Quindi si scrive per ottenere la licenza in lettere, è il 1893 ed è il periodo in cui si intensificano le sue frequentazioni dei salotti. Oggi noi per vederci che facciamo ci incontriamo al ristorante, invitiamo della gente a casa, ma sapete che una volta soprattutto le famiglie di un certo rango si frequentavano come? Andando nei salotti più ricercati, cioè le case, certe signore soprattutto che mettevano a disposizione degli altri tutta la loro accoglienza, tutta la loro arte anche di curare la casa e di ospitare le persone per passare dei momenti piacevoli insieme. E questo è il periodo in cui il nostro Marcel conosce per esempio un personaggio che sarà importante, Jacques-Emile Blanche, che realizzerà un suo dipinto poi esposto al Salon nel 1892 e tramite questo artista conosce anche Oscar Wilde. E qua questo aneddoto ve lo devo raccontare per forza perché cercando notizie sulla vita di Marcel Proust ho trovato veramente degli aneddoti incredibili e qui ci stanno bene, bene, bene. Allora pare che una volta Marcel abbia invitato Oscar Wilde a casa, a cena. E Oscar ha accettato questo invito, si è presentato a casa Proust e quando è arrivato però ha dato un'occhiata in giro e se ne è andato subito, ha voltato le spalle, se ne è andato esclamando quanto è brutta la vostra casa. Certo, è stato un po' cafone, va bene, però io dico, dico, Marcel, quando decidi di invitare il signore dell'estetismo a cena, quantomeno prima, sincerate, di aver seguito un workshop di Marie Kondo o quantomeno una masterclass di Rossella Migliaccio perché è prevedibile che ci possa essere una reazione poco carina. Marcel Proust era invitato di frequente, di frequente nei salotti, anche perché era un simpaticone. Marcel era divertente, aveva sempre la battuta pronta, gli piaceva anche prendere un pochino in giro gli altri ed era una di quelle personalità che ti rallegravano una serata. Cioè voi immaginate oggi di organizzare una festa, una sera e di invitare Enrico Brignano o Teresa Mannino, cioè di questa festa se ne parlerà praticamente per mesi. Ecco, Marcel lo volevano tutti per questo motivo, perché era l'intrattenimento garantito, l'animazione gratuita. Tutti ci andavano e tutti restavano contenti. Questo spirito un po' di commento, questo spirito un po' anche comico, che non sempre viene messo in luce della personalità di Marcel, emerge anche in una sua produzione minore, che vi voglio citare qui, perché ad un certo punto lui scriverà una rubrichetta, dei pastiche si chiamano, cioè sono delle opere nelle quali imitava, o meglio parodiava, cioè proprio prendeva in giro lo stile di autori come Balzac, come Michelet, come Flaubert. Ma chissà, io penso, forse questa rubrica mi sarebbe pure piaciuta. Tra le amicizie che colleziona in questo periodo, una importante che vi devo citare è quella con Reinaldo Hahn, compositore venezuelano naturalizzato francese con il quale instaura un rapporto intenso, turbolento, molto viscerale, che poi si trasformerà in una profonda amicizia. Ottenuta la licenza in lettere, comincia a lavorare per un periodo presso la biblioteca Mazarin. In realtà non è proprio un lavoro, è una collaborazione gratuita. Ottiene questo incarico presentandosi ad un concorso regolare. Ma non pensate che lavorerà più di tanto. Marcel aveva delle qualità senza dubbio, ma non era un grande lavoratore, anzi si assenta molto di frequente. Una di queste assenze, tra l'altro, è dovuta ad un viaggetto compiuto con la mamma in Germania. Nell'estate del 1896 poi esce un suo libro, perché dovete sapere che Marcel Proust non ha scritto solo alla ricerca del tempo perduto, ci sono anche delle opere considerate minori, facendo il confronto naturalmente col capolavoro massimo, ma ci sono. Quest'opera si chiama Les plaisirs et les jours, 1897, in una sfida a duello, disputatasi nella foresta di Maudon e conclusa però senza feriti. A dirla tutta, la Francia intera in quel periodo si stava sfidando a duello su una questione molto più grande e molto importante, che lascerà dei segni non trascurabili per quello che riguarderà la storia dell'intera Europa negli anni a seguire, ossia l'affaire Dreyfus. Era successo che un capitano ebreo, appunto Alfred Dreyfus, fosse stato accusato di avere trasmesso degli importanti segreti militari ai tedeschi e per questo era stato arrestato e condannato. La questione aveva attecchito perché? Perché in realtà in Francia già c'era un certo terreno fertile riguardo all'argomento antisemita, in quanto nel 1886, cioè qualche anno prima, era stato pubblicato un libro che era diventato un vero e proprio bestseller. Questo libro si chiamava La Francia ebraica, era stato scritto da Edouard Drummond e considerate che in un solo anno aveva venduto centomila copie. In questo testo, di cui nei nostri libri di scuola si parla molto poco, venivano esposte delle idee razziste, antisemite in particolare, molto molto simili a quelle esposte da Hitler nel suo Mein Kampf. Il razzismo antiebraico in Francia quindi esisteva, e come? Alla condanna di Dreyfus molti si schierarono contro di lui. Guardiamo la famiglia Proust in questo momento, che cosa succede? La verità è che Adrien, il padre di Marcel, ritiene che Dreyfus sia colpevole. E la situazione a casa, le discussioni a casa in quel periodo immagino che siano state un po' accese, perché invece Marcel, Robert e la madre, Jeanne, fanno fronte comune ritenendo che Dreyfus fosse innocente. Lo stesso Marcel si è dato poi da fare raccogliendo delle firme quando è arrivato il momento della petizione degli intellettuali e si vantava di aver ottenuto anche la firma di un titano della letteratura dell'epoca, cioè Anatole Franz. La questione poi si sarebbe risolta perché alla fine furono rintracciate delle prove a discolpa di Dreyfus che quindi fu ritenuto innocente e venne completamente riabilitato. Ma la Francia ormai è spaccata in due e queste sono delle ferite destinate a cicatrizzarsi molto lentamente. Del resto si sa, i segni delle cicatrici, soprattutto quando sono molto profonde, non sono destinati a rimarginarsi del tutto. Intanto però il nuovo secolo è arrivato e Marcel lo accoglie facendo dei viaggi, perché gli piaceva comunque andare fuori. Non ne ha fatti tantissimi ma un po' si è spostato. È stato in Italia, ha visitato Venezia, Padova, poi è stato nelle Piandre, ad Amsterdam, ad Anversa, città bellissime, Laia, Delft, Harlem. Tuttavia è un periodo che anticipa poi due grandi dolori dell'esistenza di Marcel, cioè la morte del padre e poco tempo dopo la morte dell'amatissima madre che potete immaginare in quale stato di prostrazione abbia ridotto il nostro autore. Con lei fra l'altro, con la madre aveva collaborato fino a pochissimo tempo prima perché insieme avevano scritto, insomma la madre aveva proprio aiutato a scrivere, a tradurre, scusate a tradurre le opere del teorico e critico d'arte John Ruskin, dal quale Marcel era molto 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 affascinato. Col passare del tempo Marcel diventa sempre più misantropo. Questa è una caratteristica della sua vita, è come se ci fosse una prima parte, un primo tempo della vita di Marcel e un secondo tempo, perché abbiamo visto come nella prima parte della sua vita era sempre invitato ai salotti, andava perché era veramente un amicone, un compagnone simpaticissimo, mano a mano però comincia a manifestare proprio un rifiuto nei confronti del genere umano. Scrive addirittura a Genevieve Strauss, della quale frequentava il salotto queste parole, sentite un po', credo che potrei persino guarire se non ci fossero, tra virgolette, mette lui, gli altri. Ma il grado di esasperazione a cui ti portano, l'impossibilità di far capire loro le tue sofferenze, che possono durare anche un mese, sofferenze causate da un'imprudenza commessa soltanto per aver fatto ciò che secondo loro è un piacere senza uguali, ebbene tutto questo è la morte. Gli altri diventano un peso per Marcel, questa incapacità di farsi comprendere, questo senso di incomprensione, perché le persone non riescono a capire quello che lui sta provando, anzi lo sminuiscono, abbiamo visto un po' anche il padre come lo trattava, ma intanto queste condizioni di salute sono diventate sempre meno gestibili. considerate che lui assumeva una quantità incredibile di farmaci, cioè lui assume sostanze medicine eccitanti come la caffeina e l'adrenalina, ma anche lassativi e ipnotici, consulta decine e decine di medici, però poi si fa le terapie a proprio uso e consumo, cioè i consigli non li ascolta mai, prende anche un sedativo già dai tempi dell'esperienza militare, assume questo sedativo potente che si chiama Trional e lo integra con il Veronal, di cui assume fino a 3 grammi al giorno, ovvero 2 volte in più la dose giornaliera massima consigliata, cioè siamo prossimi alla tossicodipendenza, fa uso costante di certe sigarette antiasmatiche che già mi sembra uno simolo di per sé, comunque queste sigarette antiasmatiche andavano molto in voga all'epoca, venivano molto utilizzate, ma l'efficacia terapeutica del tutto inesistente come possiamo immaginare, oltre all'asma che era il suo problema cardine, il problema cuore di tutto, c'erano altri problemi al cuore un po' più specifici, cioè problemi cardiaci, proprio febbre da fieno, enterocolite pseudomembranosa e poi un'insonnia, un'insonnia considerata ormai proverbiale, per cercare di fare fronte a questa considerevole quantità di problemi fisici, ricorre a delle pratiche alimentari che farebbero venire un colpo apoplettico all'OMS, perché lui si faceva una dieta a misura, se l'era creata lui, faceva un unico pasto al giorno e il pasto consisteva del seguente delicatissimo menù che vado a leggervi, due uova alla crema, un'ala intera di pollo arrosto, tre croissants, un piatto di patate o patate fritte, uva, caffè, una o più bottiglie di birra. Dopo aver consumato questo pasto non consumava più niente, non mangiava più niente fino all'ora di andare a letto, quando si concedeva un quarto di bicchiere di acqua di Vichy, perché se ne beveva uno intero, poi non lo mandava giù, gli risultava indigesto, che problema dopo quello che si è mangiato è proprio l'acqua di Vichy, chiaramente. A Marselle non basta fra l'altro autoprescriversi le terapie, siccome è convinto di saperlo fare, distribuisce consigli ad amici e parenti, gli dice aspetta non c'è bisogno di vedere al medico, ci penso io, te lo dico io che cosa devi prendere così dia giusto. Lo fa per via ufficiosa, insomma lo fa per lettera, così come consiglio d'amico, ma non gli va sempre bene. Una volta, per le conseguenze indirette di un suo consiglio, un tizio ci ha rimesso la pelle e vi leggo la lettera in cui ci racconta questa cosa. Mi rimprovererò per tutta la vita di aver raccomandato Dubois, un medico peraltro stimabilissimo, a un uomo sulla cinquantina, perseguitato da ben dieci anni da una dispepsia che gli impediva di digerire qualsiasi cosa e si manifestava attraverso una ciclica dilatazione dello stomaco di cui si erano occupati senza successo tutti i maggiori specialisti, compreso mio padre, tra parentesi mette. Un bicchiere d'acqua gli restava sullo stomaco per 15 ore, dunque io ero arrivato alla conclusione che questa dispepsia fosse di origine nervosa. E così mandai il malato da Dubois, che gli parlò per circa un quarto d'ora. Quella sera il malato digeriva l'astice, l'insalata russa, eccetera. Dubois ha fatto un po' Nostradamus, parlato un quarto d'ora, bacchetta magica risolto. Purtroppo, cosa che io ignoravo, quel malato era albuminurico. Quella nuova dieta fu tollerata benissimo dallo stomaco, ma non dai reni. È morto di uremia qualche tempo dopo. E questo un po' anche per ricordarci che quando si sta male, piuttosto che cercare, digitare su Google, forse è meglio chiamare un medico. Non solo la salute gli dà rogne, Proust, il nostro Marcel, abbiamo visto, non era molto attento ai consigli delle altre persone, sottovalutava quello che gli diceva chiunque, e questo vale anche in ambito finanziario, perché era un avventato investitore e combinava un sacco di pasticce, infatti ha perso anche dei soldi. Un cugino dello scrittore, Lionel, era consulente finanziario e si era, non so, così avventurato a dargli qualche consiglio. Insomma, Marcel, forse è meglio che fai così, cioè non investire su quella cosa, capito che sta fallendo, lascia stare i tuoi soldi, tieniteli per te. Invece, no, Marcel non lo ascoltava e Lionel lo avrebbe accusato. Gli scrive delle righe e gli dice, sei cresciuto, Marcel, sei cresciuto dai tempi dell'infanzia, ma non sei diventato grande. Sei rimasto il bambino che non tollera di essere sgridato. La sua vita non era soltanto negativa, arrivano ad un certo punto i riconoscimenti tardivi, ma comunque arrivano. A partire dal 1913, Marcel Proust comincia a pubblicare quella che è appunto considerata la sua opera più significativa, ossia la ricerca del tempo perduto, e ottiene un certo risultato. A circa un mese dalla pubblicazione, pensate che riceve anche una lettera di Henry James, lo scrittore, che gli dice, hai scritto l'opera più grande della letteratura francese dopo la Certosa di Parma, quindi già ottiene questo riconoscimento. 800 lettere di congratulazioni verranno lui ricevute nel giro di una settimana, quando ottiene il premio Goncourt, il prestigioso premio Goncourt, con il secondo volume di Alla ricerca del tempo perduto, che si intitola All'ombra delle fanciulle in fiore. Comunque non sta bene, questo l'abbiamo capito. L'asma lo tormenta, ormai dorme di giorno e veglia di notte, è diventata una situazione costante. Ha il terrore, vive nel terrore di non riuscire a completare la sua opera prima della morte. È terrorizzato da questo ed è convinto che se non riuscirà a completare il suo progetto dei sette libri prima di morire, tutta la sua esistenza terrena sarà un totale fallimento. Per questo scrive in maniera febbrile, costante, è un'ansia continua che lo tormenta perché deve riuscire a portare a termine questo progetto. Non sopporta più i rumori. In una casa dove è abitato, fa tappezzare le pareti di sughero per avere l'effetto insonorizzante. In un altro alloggio dove non lo può fare, ricorre ai tappi per le orecchie. Scrive fra l'altro in condizioni assurde, ha perso completamente il senso termico, c'è questo aneddoto per cui in un periodo, in una giornata di caldo soffocante, proprio allerta rossa, lui scrive con addosso sette coperte di lana, una pelliccia, tre borse dell'acqua calda e il fuoco acceso, cioè proprio è andato e viene assistito in questo periodo e lui viene assistito da una governante, anche lei diventata famosa, diventata celebre, la governante che lo assiste nell'ultimo periodo della sua vita si chiama Celeste. Celeste in realtà ha sostituito una persona importante nella vita di Marcel, una persona che per lui era stato un punto di riferimento ma anche un amore tormentatissimo, Alfred Agostinelli, che era stato suo segretario appunto e per il quale Marcel aveva preso una bella sbandata e il rapporto era finito male perché Alfred era morto drammaticamente durante un'esercitazione aerea, aveva fatto questa esperienza di prendere l'aereo e pilotarlo da solo, muore in questa maniera drammatica e Marcel ne rimane prostrato, ne rimane distrutto. Comincia a immaginare quando sale sul taxi che un autobus possa travolgere la vettura così da porre fine finalmente a questi giorni dolorosi, senza speranza, senza requie e Celeste arriva a questo punto, arriva a sostituire Alfred e lo aiuta, se ne prende cura veramente quasi in modo materno, lo aiuta anche a scrivere perché lei rincolla delle striscioline di carta sottili su cui sono scritte delle annotazioni e poi delle aggiunte alle sue bozze. Celeste resterà con lui fino alla fine, fino alla morte di Marcel, avvenuta il 18 novembre del 1922 per un attacco bronchiale fatale. Durante l'ultima notte Marcel chiama Celeste al suo fianco, la chiama nella stanza e le chiede di lasciare la luce accesa perché nella stanza vedeva una donna grossa, vestita di nero, che lo inquietava. Celeste è stata rintracciata negli anni 70 e ha scritto un libro, diventato anche questo rinomato, si chiama Monsieur Proust e racconta gli ultimi anni di vita di Marcel dal punto di vista della governante che gli è stata accanto e non lo ha abbandonato nemmeno nei momenti più delicati. Marcel negli ultimi tempi è stato privato di molte cose, parola, vista, movimento. La medicina che lui ritiene una scienza esageratamente comica non è stata in grado di salvarlo, però forse c'è riuscito qualcos'altro e questo qualcos'altro io credo che sia la letteratura. Marcel ha scritto ad un filologo e critico tedesco, si chiamava Kurtius, queste parole rivelatrici che vi leggo. La cattiva letteratura rende meschini, ma quella vera fa conoscere la parte ancora sconosciuta dell'animo umano. Ha sofferto molto Marcel e qui mi sento di voler chiudere con la stessa riflessione che ho fatto alla conclusione del video dedicato a Leopardi, il nostro Giacomino per i veterani non era una brava persona, no? Chi è affetto da malattie croniche vive in una estenuante lotta continua con i propri mali da una parte e dall'altra con l'incomprensione delle persone che circondano, delle persone che non riescono a capire perché cose tanto semplici per una persona, per qualcun altro possono essere terribilmente difficili e che sottovalutano, sbiliscono, a volte anche deridono i mali degli altri. L'incomprensione che non capisce cosa significa stare dentro a una condizione che non ha soluzione è terrificante e che sia psicosomatica o meno comunque, qualsiasi condizione cronica merita rispetto e compassione, in un senso bello della compassione, no? Perché compassione significa patire insieme, compatire, sentire quello che l'altro sente, provare ad avere quasi una percezione, se si può dire, empatica, cioè mettersi un po' nei panni dell'altro e cercare di avere quella discrezione, quel rispetto che le persone che affrontano un lungo percorso, che diventa un secondo vestito, una seconda pelle di più, hanno sempre e allora forse l'unica cosa che può fare chi ha la fortuna di stare bene per la maggior parte della propria vita è cercare di avere cura, rispetto di chi invece affronta situazioni diverse e magari criticare un po' meno e tacere un po' di più. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine di questo episodio e noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con altri contenuti e ancora con un nuovo episodio di Non era una brava persona. Ciao!